Gianni Sparti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di reagire alle minacce e alle insulti che riceve da Giorni e Dagli Ethers, ma vediamo insieme cos'è accaduto perché proprio lui stesso ha pubblicato gli screen sul suo profilo Instagram. A Uomini e Donne nelle ultime puntate sono scoppiate diverse liti, tra cui una di queste ha visto come protagonista Gianni Sparti, Aurora Tropea e Armando Incarnato. La prima infatti accusava il Cavaliere di essere lì in cerca di visibilità e di aver tentato di fare diversi provini per poter entrare nei reality, cosa poi smentita dalla stessa Maria di Filippi anche Gianni Sparti, nonostante non abbia un'ottima simpatia per Armando, ha deciso di difenderlo. Gianni Sparti più volte ha affermato che con il ritorno di Aurora Tropea nel programma di Uomini e Donne sono tornati anche sul suo profilo Instagram degli utenti in forma anonima che lo minacciano e Gianni così ha deciso di pubblicare finalmente nelle storie del suo profilo qualche prova di queste minacce che lui giornalmente riceve. Lui commenta così, ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan come si legge non può arrivare a tanto, ha buon intenditore, poche parole, PS dice Gianni non ho paura di niente e di nessuno, subito dopo manda, vedete qua lo screen della minaccia, questo utente scrive pezzo di M, lascia perdere Aurora Tropea, hai capito sono stato chiaro, te ne pentirai, smettila di insultare Aurora. E lo stesso Gianni che ha ammesso che non è il primo commento dove lo insultano e lo minacciano e ora non ne può più e con questo ho anche voluto lanciare un messaggio forte e chiaro contro tutti gli haters. Io non ho paura di niente e di nessuno. Secondo voi chi ci sta dietro questi messaggi? Scrivono nei commenti, lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale, io ti aspetto come sempre per questo ma tanti altri prossimi video.